Auschwitz, campo 1. Gli studenti toscani del treno della memoria passano in silenzio da un blocco all'altro della caserma polacca, trasformata in campo di concentramento e poi in museo. La tortura qui era formata da due parole, fame e fatica, e da quando si entrava da questo cancello si perdeva tutto, dai vestiti fino al nome. Primo Levi l'ha sintetizzato, questo è un uomo, ma in realtà bisognava diventare degli automi, privi di qualsiasi sentimento, privi di qualsiasi senso di solidarietà, di umanità, di amicizia, ma solo degli automi. A guardare le foto e gli oggetti che appartenevano ai prigionieri ci si emoziona e si piange, davanti alla camera a gas, davanti ai forni crematori. E lo strazzo è forse ancora più duro quando ci si rende conto che dietro a quegli oggetti, una scarpa, una valigia, c'era la vita di una persona. Conoscere per tentare di comprendere i meccanismi che portano l'uomo a compiere cose così terribili. Siccome i meccanismi sono neutri, ci sono sempre, purtroppo come vediamo ci sono anche oggi, quindi capire può forse aiutare a essere un vaccino. Non esiste antidoto, ma esiste il vaccino. Il vaccino vuole richiami, i richiami almeno una volta l'anno vanno fatti. Poi gli studenti in corteo hanno marciato silenziosamente verso il muro della morte dove i nazisti fucilavano i prigionieri. Qui hanno deposto una corona. In questo campo di concentramento morirono circa un milione di persone, ebrei, rom, sinti, omosessuali e prigionieri politici. Spesso diciamo che le persone, i gerarchi nazisti che hanno fatto questi fatti erano dei mostri. Ecco, purtroppo non era così. Erano delle persone, delle persone normali come tutti noi. Questo ci fa capire che bisogna stare attenti, vigilare sulla libertà perché può riaccadere. Poi ancora incontri con i sopravvissuti, ma i ragazzi sembrano non averne mai abbastanza e con la sete di sapere hanno intervistato i testimoni presenti sul palco. Marcello Martini, sopravvissuto ai campi di concentramento, ha raccontato la sua storia e ha chiesto agli studenti di pensare con la loro testa e di non farsi mai condizionare perché le derive estremiste sono sempre in agguato. Grazie a tutti.